Io sono architetto, sono formato come architetto e ho diventato architetto del paesaggio. In questo caso penso che una cosa non va molto lontana dell'altra. Quello che sono sicuro è che dopo di lavorare con l'architettura del paesaggio non sono lo stesso architetto che era prima. L'architettura del paesaggio va un po' più lontano. Non ha gli stessi oggettivi che l'architettura. L'architettura del paesaggio è il nostro futuro. L'architettura del paesaggio è quello che noi debiamo fare, quello che debiamo costruire. Dobbiamo costruire il paesaggio. In questo caso mi serve soprattutto perché è sempre mi ha piaciuto tutto quello, canzoni, poesie, edifizi, tutto quello che si fa una cosa sopra l'altra. Penso che con la tradizione molto catalana, che è la del Castellers, che un uomo sopra dell'altro arriva ad un oggettivo un po' più grande per loro, per lui solo. Pertanto penso che per me l'architettura del paesaggio è in un gradino un po' più alto che l'architettura semplice. è un argomento molto diverso. L'architettura del paesaggio è un po' più grande con il paesaggio pubblico e il tempo e le cambiamenti. L'architettura è più di costruzione o di costruzione di un po' più grande e il disconstruggimento, over time, è getto old e falle part. Ma quando è disconstruggito, è finito, mentre l'architettura è crescita e è cambiata constantly. E io penso che, in un mio personalo visione, l'architettura è parte dell'architettura. L'architettura è la più grande unità e inside ci sono piccoli uniti che si potrebbe chiamare l'architettura. è una visione personali, e in la nostra vita, come è oggi, è molto più considerato l'altra forma, che credo è vero. L'architettura è fillingare il resta, il residuo del paesaggio in-between architettura, e io penso che sia un buon modo, non per se una cosa più vera che l'altro, ma penso che l'architettura sono conosciuti e usciti per vedere le possibilità e creare le possibilità di creare le possibilità for the next scale level. Well, obviously they complement each other. One depends on the other and it's a question of scale. It's a question of whether you're in an urban situation or in a rural situation, but from our experience there's always a dialogue going on between the two. And we because we do both we see it as something integral something that has to work together.